Dopo il passaggio del fronte, il calo delle temperature sulla regione, nella notte tra venerdì e sabato, potrà favorire il formarsi di ghiaccio al suolo su molte località. Sulle zone più pianeggianti occidentali potrà anche formarsi della nebbia. Nel fine settimana, le correnti si disporranno sentitamente da nord sulla nostra regione e saranno via via più fredde e più secche. Il cielo sarà tendenzialmente bello, con in genere sereno, poco nuvoloso, con qualche velatura in quota nel giornato di sabato. Sabato sera potrà anche ricominciare a soffiare la bora. Le temperature minime in pianura saranno tra meno 5 e meno 2, sulla costa tra 0 e più 3, le temperature massime tra 4 e 7 gradi. Anche domenica avremo una bella giornata con cielo in genere sereno, poco nuvoloso, forse qualche nuvole in più nel pomeriggio lungo la costa. Soffierà a bora, in genere moderata. Le temperature non subiranno grosse variazioni rispetto a sabato. Probabilmente però nei fondovalle alpini e prealpine le temperature scenderanno alquanto durante la notte, con valori anche inferiori ai meno 15. Da lunedì si formerà una depressione sul centro Italia, che richiamerà correnti dal nord-est anche sulla nostra regione. Il cielo dunque sarà all'insegna della variabilità e soffierà a bora, lunedì sostenuta, da martedì anche forte e tornerà a fare più freddo. Dall'osservatorio meteorologico dell'ARPA, Livio Stefanotto.